E Stefano Menichini invece è ex direttore d'Europa, come si deve definire? A me questa storia d'Europa mi fa così dispiacere. Eh, figurati a me, ex direttore d'Europa, va bene. Ex direttore d'Europa, vabbè, poi ci arriveremo. Non sfugge, insomma, che mi pare che Renzi, se uno scende in piazza per difendere i coi sindacati, metti i gettoni negli iPhone. Se uno dice che alle primarie votano i fascisti e quelli che la magistratura sta indagando, risponde chi se ne frega. L'unica complicità che ostenta è con Silvio Berlusconi, che non è Alcide De Gasperi, ma diciamo è un condannato, e con Denis Verdini, che anche ha diverse indagini. Da quando Silvio Berlusconi è condannato, interdetto dai pubblici uffici, ha sempre offerto al potere politico questo scambio. Il mio sostegno in cambio di una legge ad personam che mi faccia tornare in campo. Fermati. Ha ricattato Napolitano, ha provato a tirare giù il governo Letta e a Renzi gli ha fatto una salva a Berlusconi che è congelata. Quindi costa l'agibilità politica di Berlusconi. Di che stiamo parlando? Adesso io non vorrei dire che questa trasmissione è destituita di fondamento, perché naturalmente sarebbe offenzione ai tuoi confronti, ma ai miei colleghi che si occupano di notizie, ma dove sta la notizia? Il patto del Nazarelo compie un anno oggi. Peraltro credo che gli elettori di Centrosiste si siano anche abituati, perché prima che ci fosse Renzi c'era un governo che addirittura con Silvio Berlusconi aveva fatto una maggioranza politica, cioè ci governava il paese insieme a Forza Italia. Cioè l'incluso perenne è già fra voi. Che Renzi ha tirato giù. Voi lo potete chiamare in ciuscio. Che Renzi ha tirato giù. Voi potete continuare a chiamarlo in ciuscio. Si tratta di un accordo politico, istituzionale, di grandissima solidità. Quanto costa Menichini questo accordo? Di grandissima solidità. La legge ad persona... La salva Silvio, me la sono inventata io. Dove sta? È sospessa. Ah, è che sospessa? Allora non c'è. No, non c'è. No, non c'è. No, non c'è. Stiamo parlando di un accordo, stiamo parlando di un regalo a Berlusconi che fino adesso nessuno ha visto. Ah, non è diventato portavoce di Renzi. Berlusconi sta ancora a dei servizi sociali. Non è ancora... Hai trovato lavoro da portavoce di Renzi. Mi difendi per favore. Hai trovato lavoro da portavoce di Renzi. Non è una battuta carina. Hai trovato lavoro da portavoce di Renzi. No, sinceramente, è proprio il contrario. Cioè, Menichini, nonostante abbiamo un trattamento... Ma come dov'è la notizia? Abbiamo avuto un trattamento maestico. Continuando con il suo signore. Tu hai detto dov'è la notizia? Siccome fai il giornalista, siccome fai il giornalista, non è una notizia che si fanno le informe con le relazioni. Fermi con il pregiudicato. Ti spiego, ti spiego. Ma mi vuole un piacere, basta che non dite che è una cosa che è successa. Ti spiego che è successo. Noi litighiamo sulle opinioni, abbiamo opinioni differenti, non litighiamo... Non puoi dire che queste non sono notizie, perché se avessi avuto il concetto di notizia sarebbe direttore e non ex direttore. Eccoci, è il loro direttore di un giornale semi-contestino. Allora, adesso mandiamo fitto, poi ci cambiamo e ritorniamo in studio in un altro modo. Fitto?